Buongiorno, sono Davide Zepponi, ho studiato Ingegneria Gestionale al DT. Per me studiare al DT ha significato l'opportunità di poter far parte di un ambiente variegato, poter studiare quindi con molte persone dal background molto diverso. Per descrivere questi tre anni di formazione con tre aggettivi userei interessante, appassionante e... no, non sono pronto, dopo, facciamolo. Ho scelto Ingegneria Gestionale in modo da poter conciliare delle skills più manageriali ad un background più tecnico e matematico. Ho sviluppato la mia tesi con ABC Capital Partners, è un advisor per un fondo di private equity e la mia tesi ha ambito a voler sviluppare un approccio per permettere l'identificazione di opportunità di investimento. Vincere questo premio per me significa poter vedere riconosciuto l'impegno che ho messo nella realizzazione della mia tesi durante tutti questi tre anni di formazione. Nel mio futuro vedo l'opportunità di poter mettere in pratica quanto ho imparato sia in ambito universitario che extra e poter costruire qualcosa di rilevante per tutti quanti. Ci siamo? A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.